Oggi abbiamo presentato il rapporto annuale sulla certificazione energetica allegato alla sua quinta edizione e che ci dà una fotografia dello stato dell'arte degli attestati prestazione energetica in Italia. Come possiamo fare questo rapporto? Grazie a un sistema integrato che si chiama il Sistema Informativo Nazionale degli Attestati, che ci permette di avere le informazioni da tutte le regioni che hanno aderito. Questo strumento ha raggiunto una certa maturità e costituisce una base fondamentale per i decisori politici sia a livello centrale ma sicuramente a livello regionale e comunale perché possano in virtù dello stato dell'arte degli edifici sia residenziali che pubblici capire quali possono essere immagini di miglioramento. Senza conoscere il dato, senza sapere dove sono, è difficile migliorare. In che modo questo può essere utile anche con la nuova EPBD4? È sicuramente uno strumento di pianificazione, quindi poiché nella direttiva ci impongono di stabilire una roadmap di miglioramento sul 55% degli edifici peggiori e dobbiamo migliorarli in varie fasi di una certa percentuale, è necessario conoscere bene qual è il valore medio dei consumi degli edifici italiani e capire che cosa significa migliorare del 16% e del 22%. Se non abbiamo una fotografia, come facciamo a raggiungere questi obiettivi? I dati dell'ultimo rapporto ci dicono che meno del 50% sono in classi più basse, è un dato positivo riscontrato per la prima volta dopo 5 anni. Un commento a caldo su questo, cosa rappresenta? Allora, rappresenta un primo passo di tanto lavoro che tutto il paese fa, l'Enea è sicuramente molto impegnato, sicuramente i sistemi incentivanti hanno contribuito e secondo me hanno contribuito per dare appunto il buon esempio. Ora, che dobbiamo fare molto di più, è importante diffondere queste buone pratiche e quindi questo ci deve far capire che la strada è giusta, naturalmente adesso dovremo impegnare capitali anche che non sono solo dello Stato, dei capitali pubblici, ma è una bella esperienza che ci fa capire che se investiamo otteniamo risultati.